Mi dicevo che tutti noi abbiamo i punti di riferimento che non sono l'Igabue e l'Emilia Tiziano Ferro per fortuna del Signore, quelli degli anni 60, 50, tu siedeli? Quelli del 55, quelli del 73, del 24 maggio hanno lo stesso riferimento, è una casualità e questo riferimento fa l'incirca così Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti